Vai, Camerano all'uscita di casa, Land Rover 4x4, neve un metro, c'è sette minuti, vai 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 che sta a registrare, vai vai che registro, ecco abbiamo messo la 40 ridotta, stiamo andando, sette minuti dura questa, guarda che la fanno, eccola qua, due metri di neve, Massimiliano si è fermato, vai 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 vai, tunnel di neve, stiamo andando, la sesta ridotta, Super Camerano, notati i metri di neve, ecco, sommettiamo la 30 ridotta, piano, qui piano, avanti, c'è ancora, 4 minuti, montagne di neve, no, no, piano, piano, ecco, notate la grande nevicata, 11.02.2012 Allora, inizia a nevicare qua, vai, vai 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 vai, continuo Camerano sotto la neve Occhio a questo, che mi pare un po' ombranato Ecco in un altro, fermate lì Tonnellate di neve Piazza è una roba grossa Ecco gli spalatori Abbiamo 4 minuti, tranquilli Vanno tutto giù dalla piazza Questo è il corso principale Notate la neve Ecco, uno si è fermato, un imbecille in mezzo alla strada E io devo registrare Si sente tutto qui, eh Ecco, classico spalatore Stiamo andando, stiamo andando Macchine sommerse Ai lati un metro di neve Un metro di neve 3 minuti ancora di registrazione Ecco Ecco, abbiamo trovato un imbecille fermo ma Ci impedisce di registrare ma andiamo avanti Ecco, questa è la piazza Recchia Pelosa, questa te la dedico Quando lo vedi YouTube questa dedicata a Recchia Pelosa, Antonella e tutta la compagnia Alla faccia tua, Ricchia Pelosa Manca 3 minuti Ecco un altro Fa questo te, porca Mariana, sbrigati Vai, vai, ma soglia anche se non si ferma Ricchia Pelosa, quella è l'amico tu, quello sulla sinistra Guarda come ti assomiglie, guarda Ecco, questo è l'imbranato come te Bravo, bravo, avanti, avanti Avanti Questa non è Ripa Tranzone ma il Camerano Comunque c'è un metro e mezzo di neve Guarda la vecchia Pelosa, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Notare ai lati quasi un metro di neve Ho capito perché l'agri non porta uno spasso? Questo è il corso di neve